Buongiorno ragazze, buongiorno, anzi buonasera, sono qui per presentarvi un paio di orecchini in collaborazione con chi? Indovinate? Con Patrizia, buon fissuto. Allora, sono felicissima perché sono gli orecchini bellissimi, ora vi faccio vedere. Quelli che ho fatto io sono... La luce è un po' quello che è perché sto facendo il video con la luce artificiale, quindi non si vede bene, non si vedono bene i colori. Ecco qua, che anche c'è una mano. Eccoli qua. Allora, sono disponibili, saranno disponibili dei kit, questa colorazione, light grey, e in un'altra colorazione che è burgundy. burgundy vi lascerà una foto, vi farò vedere adesso una foto, comunque sia, non ce li ho qua, sono così, avete già visto su Facebook qualcosa, ha fatto già vedere la Patrizia. niente ragazzi, sono fatti con l'Evex Solo, il bigone da 4 mm, preziosa o Swarovski, super duo, strom duo, ovviamente vi arriveranno anche i 4 chaton, dei 4 chaton Swarovski a 8 mm, Swarovski e nulla. Questi sono i 2 kit, vorrei approfittarne di questo video presentazione per farvi vedere anche gli altri kit che ho messo sul mio sito. Comunque, troverete questi kit qua, vi metto qua sotto il link del sito, li troverete sul mio sito, oppure contattatemi in privato sul mio gruppo, sul mio profilo. Poi ho fatto gli orecchini Regina, questi qua sono, non so come, li ho fatti prima delle vacanze sinceramente, prima di partire per le vacanze e... guardate che luce, e nulla, li ho fatti in 3 colorazioni, ecco questa è peach, questa è violet e questa è blu. guardate che belli, e questo, questi orecchini qua, i kit di questi orecchini è in offerta sul mio sito, fino a, sto a fine settimana, ho finito all'esaurimento scorte, è in offerta sul mio sito al 30 euro, tutti e tre i colori, compreso di schema. passiamo avanti, ho fatto poi, gli orecchini icite, guardate che belli, sono belli, sono belli, sono belli, vai, 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 ho fatto poi gli orecchini icite, guardate, se non sono fantastici, sono meravigliosi, sono meravigliosi, comunque, sempre per solo, Shanto Swarovski, Mobiduo, e bla bla bla, un piccolo Swarovski, o preziosa, adesso non so perché faccio faticato a fare gli Swarovski, invece, mamma mia sono belli, no queste lascio per ultimi, allora, ho fatto, questi, questi qua, le mie taglie, in colorazione rosso, rosso fuoco, vabbè, e, sapete che io non amo molto rosso, non amo molto rosso, quindi, vabbè, però lo fate rosso, perché a soltanto alcuni, le mani, le amano rosso, fatti con le versolo, il ribo da 12 mm Swarovski, perle, o, dicono, Swarovski o preziosa, e qua, purtroppo, mi è caduto, mi si è rotto, devo rifarlo, e, niente, questo è, ok, poi, andiamo avanti, sempre Dahlia in, in blu, blu circolo, mamma mia, sono bellissimi, sono bellissimi, sempre con le solite cose, fatti con il gem duo, vex solo, bicon a 3 mm da 4, anche qua, sono bellissimi, anche qua, sono Swarovski, o preziosa, e, diciamo che faccio un mix di Swarovski o preziosa, ecco, adesso, se ne avete gli ultimi, è il colore che mi piace di più, è il colore mio, in assoluto preferito, Sietos Green, guarda, è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo, guardate che belli, Aspetta, aspettate un attimino, questi autunnali sono bellissimi, sono bellissimi, sono spettacolo, ok ragazze, vi ricordo che esce tra poco il kit Halley, Orichini Halley, e, dai, direi, Borgundi, vi ricordo che ho, non ho tantissimi di kit, e, comunque, vi lascio sotto il link di tutto quello che avete bisogno, ok? Ciao!